Guardate che spettacolo di piscina, questo è l'hotel dove io alloggio, il Caesar Palace di Giardini Naxos, Sicilia, guardate che bello, questo è il ristorante che si intravede dove io ho pranzato, e lo spettacolo è questo, un sole che spacca le pietre, tutto un altro sole rispetto a quello di Roma, dove regna l'umidità, guardate che bello, questa è l'area dove chi volesse può gustarsi uno spritz o qualsiasi altra cosa desideri a bordo piscina, gente da tutto il mondo che viene a godersi il sole, il cibo e il mare della Sicilia. Questo è il bar, qui c'è la piscina, ma sì la piscina scusatemi, la palestra e adesso mi dirigo nella mia stanza e ci risentiamo più tardi, vi porto al mare con me. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il mare stanca da morire, stanca, 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 anche se tendichella piccola me la è la piscina. Guardate che spettacolo. Lo avete già visto, ma così è tutta un'altra cosa. la piscina è tutta un'altra cosa. no, nel senso, era pieno di gente, ho provato a fare qualche video, ma quando fosse andare a vederli, praticamente c'ero solo io che muovevo le labbra e non si sentiva niente per il casino di gente che c'era. e niente, quindi non ho potuto portare di riprese, però stasera serata a tema qui al Caesar Palace, specialità siciliane, musica dal vivo, festa in piscina e farò qualche ripresa, sia questa sera che domani per l'ultima serata nel lungomare di Giardini Naxos. Adesso un bel pisolino meditato e ci rivediamo più tardi. Questa è la pasta alla norma. Per farmi perdonare del mancato video di Taormina dove non mi è stato possibile fare riprese, oggi vi porto a vedere Castelmola. venite con me. Guardate che belli, questi sono i piccoli di Castelmola, piccoli ma bellissimi. da solo, hai capito? E c'è veramente tanta tanta gente qua. Guarda. a tutti il negozietti in tipice. ora stiamo andando alla ricerca di un ristorante che qui ci hanno detto che dove si mangia bene ovunque praticamente guardate che belli piccoli ragazzi me ne vado a cena ci sentiamo più tardi ragazzi belli la vacanza è finita sono a fiumicino vi ho portato con me la scoperta di una terra bellissima che è la Sicilia dove spero anche di tornarci presto spero che questo video vi sia piaciuto e che questo esperimento di vlog sia stato di vostro gradimento ci vediamo alla prossima ciao ragazzi